E da un paio di giorni è ripresa anche la vendita di cibi takeaway, provvedimento questo molto atteso da un italiano su tre che abitualmente consuma a casa o al lavoro i menu preparati da ristoranti, pizzerie, fast food o agriturismi. A quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibilità di aggiungere alle consegne a domicilio anche la vendita di cibi per asporto, annunciata dal Premier Conte per il 4 maggio in tutta Italia e già operativa in alcune regioni. Un passo importante, dice Coldiretti, nei quasi due mesi di chiusura forzata in casa per le misure anti-covid, la cucina è tornata ad essere il centro della vita quotidiana. Adesso quindi si chiede di aggiungere le befande ai cibi takeaway.